Avete visto lo showcase di Sony? E allora sicuramente anche voi sarete rimasti estasiati dalle bellissime grafiche e dal bellissimo gameplay di Spider-Man 2, un titolo che noi stiamo aspettando tantissimo entro la fine del 2023, esclusiva Sony Playstation. Bene, il bello però di certi showcase è che Sony dovrebbe dimostrare o almeno mostrarci un pezzettino di ciò che tutte le sue software house stanno facendo, in linea generale anche solo parlarne un piccolo trailer di presentazione? No, si sono concentrati in questo showcase, in particolar modo su Spider-Man, nulla da dire, meraviglioso, incredibile, ma Sony ha tante software house, le IP di Sony sono tante, importanti, noi vogliamo sapere a che cosa stanno lavorando. Inoltre, magari alcuni di voi non si ricordano, ma Sony nel 2022 ha acquisito due studi di sviluppo davvero molto grandi e importanti. E quindi la domanda che sorge spontanea è a che cosa stanno lavorando? E allora io cosa ho fatto? Mi sono andato a prendere tutta una scaravana di studi di sviluppo che lavorano e faranno esclusive per Sony Playstation e sono andato a vedere se si vociferava di qualcosa. Questo è il riassuntone, da tenere sotto controllo perché tante IP importanti e tanti progetti segreti, ma stanno sicuramente lavorando a qualcosa, di certo non si stanno rigirando i pollici. Benvenuti su Top of Gaming. E lei, essenzialmente, è quella con cui vorrei partire. Difficile un po' resistere a Jade Raymond, ma essenzialmente lei è la fondatrice di Haven Studio, che immediatamente e subito dopo è stata acquisita come software house esclusiva per Sony Playstation. E' nuovissima, ragazzi, nuova di pacca. Questa ragazza, donna, classe 1975, non gli darei mai i suoi anni, essenzialmente fonda questa software house, ma ancora non ha dato mai prova di nessun videogioco, ok? E perché ve ne parlo? Beh, perché loro dovrebbero essere un nuovo studio creato ad hoc, acquistato ad hoc, che nei prossimi anni imparerà, supporterà alcune importantissime software house, di cui parleremo fra qualche frangente di secondo. Una cosa è certa, attualmente Haven sta venendo formata. Ci sono già le persone, c'è già la sua presidente, l'avete vista? Bene, sta già lavorando a titoli come Concord e Marathon, che non sono altro che delle altre IP, una sviluppata da Firewalk Studio, l'altra sviluppata da Bungie, tra cui parleremo tra qualche secondo, che dovrebbero appunto dare una mano, formare, farsi le ossa, e poi quando questi progetti saranno conclusi, beh, pensare al loro videogioco. Per cui non vedremo i primi sforzi di questa software house prima di almeno altri due anni, tre anni minimo. Ed ora passiamo ad un'altra acquisizione. Bungie! Bungie è grande, grossina. Ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, appunto, di Marathon. E, sebbene alcuni di noi hanno sempre pensato che Bungie possa essere uno studio legato a Microsoft, in realtà non sapevano come andava il mondo. Bungie era uno studio indipendente e è arrivato a Sony PlayStation e gli ha detto fate per noi un videogioco. Loro hanno detto no, noi faremo Marathon e adesso sarà, l'hanno già decretato subito e immediatamente nel primo trailer, disponibile per tutti con salvataggi disponibili in qualsiasi console, crossplay e crosssafe. Con loro, appunto, andrà anche a lavorare il team di Haven, nella quale, appunto, collaboreranno e cercheranno di portare avanti questo progetto e formarsi e comprendere al meglio come sviluppare insieme in Sony PlayStation. Dopodiché passiamo a Concord, un'IP nuova di Fireworks Studio, alla quale si avvicinerà sempre il team di Haven e anche in questo caso faranno una grande collaborazione, come appunto con Bungie, si formeranno e cercheranno di portare avanti un progetto disponibile per PlayStation 5 e PC gioco AAA e niente, anche in questo caso, esperienza, uomini, conoscenza, know-how e supporto. Dopodiché, ecco, Band Studio, con il suo incredibile Days Gone. Days Gone, un titolo esclusivo, che però non aveva riscosso così grande entusiasmo da parte del pubblico, talmente tanto che Sony non voleva fare il 2 e adesso sembra che si ricreda. Essenzialmente, in questi anni, questo studio deve aver lavorato a qualcosa. E i rumor, che fra qualche secondo andrò a fare per il video Days Gone 2, parlano appunto di un seguito. Ma c'è tanto da dire sotto su questo titolo. Altro studio, altre IP, Horizon, che ha fatto benissimo. Non c'è che dire, Horizon, da quando nuova IP in mano a Sony PlayStation, con i suoi Guerrilla Games, ora deve pensare a cosa rifare. Andrà avanti con questa IP, oppure rispolverà il vecchissimo Killzone? Attualmente è complicatissimo poter rispondere a questa domanda. L'ultimo titolo è uscito solo pochi mesi fa, ha riscosso un grande successo e sta continuando a venire aggiornato, in particolar modo, dalle patch. E appunto si pensa che fra qualche tempo Guerrilla possa avere di nuovo preso in mano un attimino un po' di idee e pensato a che cosa fare. L'IP non gli mancano, il talento neppure. La domanda è, dove utilizzeremo queste importantissime energie? Quelli che hanno pubblicato invece Ghost of Tsushima sono i Sucker Punch Production. E qui si parla ovviamente di una nuova IP, un grande titolone. Ma ricordatevi sempre che questi sviluppatori hanno dato vita anche alla serie Infamous. Anche qui grande talento, grande innovazione, grande modo di comprendere come la PlayStation funzioni, il livello qualitativo che sono riusciti a raggiungere, tecnico, narrativo, del gameplay e di altissimo valore. La domanda è, bene, Ghost of Tsushima è uscito nel 2020. Alcuni rumor che qua nel canale di cui vi ho parlato parla di un Ghost of Tsushima 2. Forse era il caso, nello showcase del 2023, quindi tre anni dopo l'uscita del videogioco, dire a che cosa stavano lavorando questi sviluppatori, appunto si vocifera, Ghost of Tsushima 2. Un piccolo trailer, o comunque due idee su che cosa stanno facendo, sarebbe stato bello saperlo. Io dico solo questo. Ed eccoci arrivati a dei grandi, dei meravigliosi. Senza alcun dubbio quelli di Bluepoint Games sono un team talentuosissimo. Ha lavorato benissimo per gli anni per Sony. Basti pensare a tutti i remake che sono riusciti a fare. Tra cui vedete la loro ultima fatica. Ultima fatica che comunque, ricordo, è uscita a novembre 2020. È passato tanto tempo. Forse anche qui in uno showcase grande Sony, magari sarebbe il caso di dirci a cosa stanno lavorando. Loro continuano a dire che diranno a che cosa stanno lavorando al momento giusto. La vera domanda è, ma stanno pensando a un remake? No, perché mi sembra il team giusto per fare un remake. Oppure, oppure, secondo alcuni rumor di settore, sembra che il team si sia un po' rotto le scatole, ok? Adesso che ha sotto le spalle Sony, può permettersi, alcuni pensano che sia Bloodborne, ok? Può permettersi appunto di creare. Ma questa creazione ovviamente chiede tempo, richiede tempo, richiede sviluppo, richiede art style, richiede la creazione di qualcosa che non esiste. Le domande quindi permangono. A che cosa sta lavorando Bluepoint Games, Remake o IP? I rumor sono davvero uno va da una parte e uno dall'altra. A paner mio, dopo tre anni potreste dirlo tranquillamente a che cosa state lavorando ragazzoni. Per come la vedo io, continuo a ribadire. Se tornate indietro nel tempo, alcuni importantissimi remake li trovate. Ce ne sono tantissimi titoli che meriterebbero nel 2023-2024 di vent'anni fa di tornare. Non dovete inventare niente, gli IP ce li avete, i soldi ce li avete, la conoscenza ce l'avete, la conoscenza della console ce l'avete. Andate e fate per piacere, grazie. Ed eccolo qua, un gioco che ha stregato tanti, tantissimi, me compreso. Naughty Dog. E Naughty Dog che cosa sta lavorando? Anche in questo caso si parla della sua ultima IP. Che anche in questo caso è di orso, di ormai tre anni fa. Per fare un buon gioco ragazzi ci vuole tempo. Avete perfettamente ragione, ma faccio sempre il solito esempio che c'è chi ti fa il trailer dei titoli che arriveranno fra 6-7 anni. Bethesda. No? Mentre ce ne sono altri che non si sbottonano. La domanda è che in questi tre anni devono aver pensato a qualcosa. Se tornate indietro, però Naughty Dog non è che sta lavorando a qualcosa di particolare. Sta sempre lavorando a un The Last of Us. Solo che dovrebbe essere un The Last of Us con delle componenti multiplayer. Sembra però che il progetto si sia arenato male. Perché? Perché non ci sono idee. Perché quello che hanno messo in campo non piace agli sviluppatori. Altra voce che ci sono in campo è che la storia dovrebbe andare avanti. Ma per andare avanti ha bisogno di essere scritta, di essere pensata, linee di dialogo, attori. Insomma, richiederebbe un sacco enorme di tempo. Cosa staranno facendo? Beh, alcuni pensano che stiano lavorando. Pensate a un remake del primo Uncharted. Dopodiché, neanche a dirlo chi sta sviluppando Gran Turismo 8. Ormai lo si sa da tantissimo tempo. Questi faranno sempre questo videogioco. Esclusiva importantissima che spinge sempre tantissimo. E questo videogioco è una delle punte di diamante di Sony Playstation. Per cui non vuoi che Polipony Digital stia lavorando al suo Gran Turismo 8? C'è da scommettere. Ovviamente Gran Turismo 7, uscito solamente un annetto fa, è nel pieno della sua gioventù. Ma per fare un Gran Turismo 8, almeno 4 anni buoni, 5 anni buoni di sviluppo? Ci vogliono. Ci vogliono. Non hanno annunciato niente, ma è chiaro. Nel nostro cuore noi sappiamo che un primo o poi Gran Turismo 8 uscirà. E per finire vi parlo di due importantissimi studi. Il primo è House Mark, che è quello che ha dato la vita a Returnal. La Returnal è stato un titolo esclusiva. Davvero molto, molto, molto interessante. Non ha venduto così tanto, ma ha un bel modo di fare, un bel modo di porsi, un bel combattimento, un bel modo di porre le storie. Insomma, forse non sarà Dark Souls esclusiva a Sony PlayStation. Ma senza alcun dubbio è stata una storia che ha convinto. Utilizzo sempre Returnal per parlare degli studi vari ed eventuali che si stanno occupando dei vari porting. Appunto, il nostro Returnal è arrivato anche su PC, come tanti altri videogiochi. Quella è una divisione, uno studio, sono tanti studi, che stanno appunto creando questi porting da PlayStation a PC e sta facendo soldi a manetta. Ogni tanto un po' di meno. Ma alcune volte hanno venduto davvero tantissimo. Basti vedere per Days Gone, basti vedere per Spider-Man. altri invece, diciamo, avrebbe potuto fare di meglio. E di titoli che dovrebbero uscire esclusive PlayStation, che poi usciranno su PC, se ne parla ancora tanto. Tra cui appunto un Bloodborne. E questo davvero potrebbe fare bene alle tasche di Sony. La vera domanda è, questi due, qual è il prossimo titolo che vedremo su PC? Ma soprattutto, Housemarque, a che cosa sta lavorando? Non si sa. L'ultima notizia è di circa un mese fa, nella quale sembra che la Software House in questione si sia ingrandita per dare vita al suo prossimo progetto. Ovviamente è tutto da costruire, ovviamente c'è tantissimo da dire, ovviamente c'è tantissimo da creare, ma come avrete capito, abbiamo parlato di tante Software House che hanno in mano tantissime IP, che quindi daranno l'infa e faranno arrivare titoli esclusive Sony e PlayStation nei prossimi anni. Se il video vi è piaciuto, amici, io vi invito caldamente a lasciare un like, anche perché le Software House erano tantine, e a iscrivervi per non prendervi i prossimi megavideo. Alla prossima. Ciao! Ciao!